Un'ombra scura vola nell'aria, è l'aquila, libera nei cieli, dove la natura trasmette ancora i suoi valori. La sua vista acuta e la sua perfetta integrazione con l'ambiente sono le motivazioni che ci hanno portato a scegliere questo animale quale simbolo allegorico del nostro progetto. La visione di Insieme ci permette di avere una prospettiva più ampia e di considerare l'impatto globale delle nostre azioni con un occhio sempre attento e scrupoloso alle implicazioni ambientali, al rispetto per la terra e per il mare che ci ospitano, per le nostre persone e per la comunità a cui apparteniamo. È con questo spirito che affrontiamo il cambiamento. Da questa visione sono nati nuovi sogni. Noi li abbiamo trasformati. Oggi in progetto. Domani in realtà. Il nario di Corandolo Non è proprio quello che ci sono Nario La visione di Corandolo Nario Il nario 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti